La Turris parte per il ritiro di Montella agli ordini del neo-minister Bruno Caneo, tornato sulla panchina corallina dopo la parentesi Padova. La squadra si è radunata ieri allo stadio di Guori con tanti volti nuovi, tra cui Nocerino, Burgio, Maestrelli, Cum, Dauria, De Felice, Guida e il ritorno di Esempio e di Franco, mentre sembra quasi fatta anche per l'arrivo di Marino. Ceduti invece Longo all'Albinoleffe e Vitiello a Sorrento, a cui dovrebbero raggiungersi le partenze di Maldonado e a quadro. Il tecnico Corallino si dice soddisfatto del mercato della Turris fino a questo momento e attende un ultimo importante colpo a centrocampo per presentare ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C una squadra che non debba soffrire fino all'ultima giornata per ottenere il mantenimento della categoria. Intanto dalla casa reale holding del presidente del Savoia, il principe Emanuele Filiberto, giunge un comunicato in sostegno delle persone coinvolte nel crollo della palazzina, avvenuto in centro città pochi giorni fa, nel quale la società Oplontina, in accordo con il presidente della Turris Colantonio, organizza delle amichevoli a scopo benefico per dimostrare, si legge nel comunicato, che in queste circostanze non esistono colori, bandieri o tifoserie, ma che siamo un unico territorio e che lo sport deve essere vissuto come un momento di aggregazione che in questo specifico momento è ancora più importante per far sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto, destinando il ricavato alle famiglie coinvolte. Grazie a tutti.